Esce Ferraioli che era stato già ammonito ed è entrato Santoro Quindi cambio, è anche il numero 3 Quindi esce Ionut ed entra Chiara D a doppia sostituzione per il Gravina Partiti in questo momento, parte il secondo tempo di Nardò Gravina Partiti in questo momento Partiti in questo momento è il canzotardo vai Davide pure uno fallo pure uno fallo vai Davide pure uno fallo ha ragione, ha ragione ha ragione vedi 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!